L'uso di combustibili fossili non è più sostenibile per il pianeta, il mondo sta puntando sempre di più sulle energie rinnovabili. L'eolico è un campo in continuo sviluppo, ma per essere economicamente sostenibile ha bisogno di alte velocità medie del vento. Questo non si verifica dappertutto e le zone in cui avviene vengono quindi sfruttate con la costruzione di grandi impianti che però necessitano di ingenti investimenti e hanno un forte impatto ambientale. Rotor è una turbina eolica innovativa ad alta efficienza che grazie a soluzioni ingegnose può essere installata quasi ovunque. È anche molto semplice, quindi robusta e poco costosa, ma soprattutto economicamente vantaggiosa. Il nostro mercato di riferimento al momento è quello del microeolico con impianti che vanno da 1 a 3 kilowatt da distribuire in kit, che potranno essere assemblati e installati direttamente dall'utente finale o da una rete di distributori e installatori. Nel nostro team abbiamo forti competenze sia imprenditoriali che ingegneristiche e abbiamo già realizzato e testato diversi prototipi. Abbiamo inoltre depositato una domanda di brevetto e stiamo per stendere in un secondo. Nei prossimi sei mesi finalizzeremo il design e costruiremo il primo impianto pilota. Io sono Fabio Urzone di Rotor e noi siamo un nuovo modo per catturare il vento. Ciao!